I porti della Liguria sono a disposizione del governo, ritengo che sia giusto dare un po' di respiro ai porti più obberati dal flusso migratorio nel sud del paese. È quanto afferma il presidente della regione Liguria, Totti, circa l'arrivo alla spezza della nave da soccorso, Geo Barents. Puntano invece il dito sulla gestione della vicenda all'europarlamentare spezzino Brando Benifei e rifondazione comunista. Costringere una nave ad attraccare in un porto lontano 1200 km e a 100 ore di navigazione è semplicemente inumano. Sulla vicenda e dopo le polemiche sull'assegnazione dei porti di città governate dal centro-sinistra, il Viminale precisa che è stata indicata la spezia, amministrata dal centro-destra, solo per una questione di rotazione dei porti. Interviene sul tema anche il Partito Democratico, spezia la città di Exodus. Nella storia di questa comunità non mancano esempi di solidarietà, accoglienza e umanità. Auspichiamo che anche in questo caso la città sia all'altezza della sua storia. Stesso auspicio anche per la CGL, che lancia un caloroso benvenuto ai bambini, alle donne e agli uomini della Geo Barents.